ciao ragazzi benvenuti al canale una volta ancora vi porto un nuovo orologio che è stato appena aggiunto la mia collezione come vedete vi presento lo starbucks di rolex o sermi dipendendo come lo volete chiamare se ci sono ormai tanti soprannome ovviamente il suo nome ufficiale è il rolex submariner oyster steel o oyster mariner date in questo caso e questa versione si presenta ovviamente con la colorazione della dell'inserto ghiera e verde ecco da dove nasce il suo nome diciamo il suo soprannome di starbucks e ricorda un po il famoso marchio di negozi di caffè e si aggiunge con la referenza 12 66 10 lb e come vediamo ci tenevo a fare questa video recensione anche se c'è poco da recensire di un rolex submariner penso che quasi tutto quello che c'è da sapere ve lo avete letto o riletto e riletto tante volte e magari possiamo discutere più del fatto che questi orologi ormai sono diventati impossibile quasi di avere la possibilità di comprarlo a negozio soprattutto di prezzo di listino e ma anche da verlo perché non è che così semplice trovare anche il rivenditore che ce l'abbia a portata di mano per cui è diventato uno di quei oggetti del desiderio è una questa referenza uscita fra l'altro l'anno scorso nel 2021 e ci ha presentato l'orologio con delle modifiche che rolex ha condotto nei suoi orologi submariner queste modifiche ovviamente sono state principalmente quella di portare l'orologio ad una cassa di 41 mm hanno sostituito tutti gli orologi submariner presenti nella collezione dei rolex submariner date no date e modificando la casa incrementando la misura però allo stesso tempo riducendo la diciamo vestibilità dello stesso al polso per cui si un orologio che si presenta leggermente più grande passa da 40 41 ma quando lo vediamo nel polso risulta più piccolo allora la domanda che vi farete è come sono riuscito ad ottenerlo perché questo penso sia la prima domanda che ci facciamo quando vediamo qualcuno ormai con un rolex particolarmente un rolex submariner chi mi segue nel canale ha probabilmente visto il mio altro video visto che l'anno scorso concomitanza dell'uscita dell'orologio si è stato chiamato proprio nel mese d'ottobre quando è stato lanciato il nuovo submariner finalmente a ritirare il mio submariner no date in cui sono stato in lista attesa quasi per due anni ho avuto fortuna questo mi ha permesso di avere immediatamente praticamente all'uscita dell'orologio l'orologio nuovo e la referenza nuova sono molto contento perché veramente ritengo che questa sia un'icona fra i submariner per me è sempre stato il modello più bello in assoluto quello senza data è anche quella più economica e ne parleremo anche del prezzo fra qualche istante perché c'è stato adesso nel 2022 ecco qua che ho preso la sola un aumento nel prezzo di listino bene ovviamente ne parliamo anche un po' del mercato grigio nero che c'è intorno a questi orologi per cui se volete vedere il video recensione del submariner no date ovviamente potete vederlo ci tenevo a fare un piccolo confronto ovviamente sono lo stesso orologio cambia semplicemente la data la presentazione della complicanza della data la lunetta ovviamente l'ingrandimento rolex e la colorazione della ghiera dell'inserto ghiera bene io sono stato sempre un fan del hub un orologio che mi è piaciuto tantissimo quando nel 2021 e 2020 scusate ormai nel 2020 è stata presentata la nuova edizione del submariner ed è stato rilanciata rilanciata perché il kermit un orologio che tutti voi conoscete per cui la combinazione in quel caso inserto ghiera di alluminio di colorazione verde con il quadrante nero esiste già da tantissimi anni è una versione iconica dei vecchi submariner e hanno ripresentato quella formula quella quella variante in chiave moderna riutilizzando ovviamente materiale attuali che sono principalmente l'utilizzo ovviamente dell'inserta in ceramica nella ghiera e da immediato per me è stato sempre la colorazione azzecatissima bellissima e mi sono messo all'uscita ovviamente in lista d'attesa la lista d'attesa come viene gestita in italia ormai dopo diversi rolex e ringrazio aver avuto sempre l'opportunità di essere chiamato malgrada il mercato che si è generato intorno l'attesa che c'è e questo sarà quello che vuoi molti di voi vi chiederete come è fatto essere chiamato e in gran parte fortuna ragazzi questo comincio per questo però la seconda parte è quella che magari possiamo in qualche modo avere un controllo o aiutarla è che la gestione dell'assegnazione di orologi non vi illudete quando vi dicono vi mettiamo in lista non è una lista infatti non viene mai dichiarata come una lista perché non è una lista perché in realtà non è un ordine non c'è un ordine d'arrivo o di entrata è semplicemente una raccolta di interessi da parte del rivenditore autorizzato di un soggetto che vorrebbe avere quella referenza che loro prima o poi arrivano perché arrivano rolex fornisce orologi per cui non è che non arrivano i submariner a casa madre e al rivenditore autorizzati è ovvio non vengono prodotti nella quantità così grande come la richiesta che esiste nel momento però che arrivano arrivano e quando arrivano vengono assegnati come vengono assegnati vengono assegnati in base a diversi criteri e qua dobbiamo fare una differenziazione fra rivenditori autorizzati di un certo livello seri e rivenditori autorizzati di un altro livello teoria rolex comunque diciamo un governo nella scelta di rivenditori autorizzati molto ampia però su alcuni rivenditori autorizzati sebbene non sono lo stesso rolex a gestire la rivendita perché non lo fa mai hanno però un legame molto più stretto molto più lungo con questo rivenditore molto più forte anche nel supporto parlo di a volte quelle gioiellerie anche monobrand per cui chi gestisce il monobrand rolex a milano o a roma sicuramente un rapporto diverso con cassa madre alla gioielleria che è un rivenditore autorizzato ma vende tantissimi altri orologi e altri marchi per cui non è monomarchio e già da lì cominciamo con una discernita diciamo di quella che sarà la gestione per cui rivenditori autorizzati di un certo livello gestiranno gli orologi in base alla lista di interessi sono ben consapevoli del mercato grigio che si è creato intorno che questo orologio qua nella rivendita di crono 24 è quasi del più del doppio quasi il 120 per cento del valore reale di listino che adesso è incrementato è passato dai 9.000 e qualcosina nell'anno scorso ai 10.400 e sanno perfettamente che c'è un mercato grigio con un'inflazione smisurata perché in realtà è smisurata del valore di un orologio che non è fuori destino è parte del listino attuale allora questi rivenditori autorizzati seri gestiscono gli orologi che arrivano in base al loro clienti allora mettetevi in loro panni innanzitutto Rolex non metterà mai mano in come vengono gestite le liste perché lo hanno già dichiarato diverse volte volte in maniera molto pubblica le liste e le liste o come vengono venduti gli orologi e a totale gestione del rivenditore non di Rolex per cui se il rivenditore ha l'arrivo mensile di un submariner mettiamo in caso e ha una rossa di clienti affezionati importanti sono gli stessi clienti che quando questa gioielleria questo rivenditore fa un evento per esempio l'invita per cui ricevono un invito all'evento ricevono un invito ad una mostra o ad altre situazioni per loro questi sono clienti fra virgolette VIP sono clienti che da anni loro conoscono sono appassionati orologi molto spesso sono clienti che comprano quasi sempre da loro ma non è una questione del legame economico cioè non è dettato da quanto questo cliente ha comprato ma quanto questo cliente a loro porta una sicurezza soprattutto che non è un rivenditore che è una persona seria che è un appassionato che ama l'orologeria e che è una persona che garantisce in qualche modo che quell'orologio rimanga in loro possesso per una occasione per festeggiare un momento sono tutte queste chiave che anche se vedete i commenti dei altri in youtube soprattutto fuori dall'italia che vanno a sollecitare a creare un rapporto con il rivenditore che va a favorire ovviamente la scelta finale della lista per cui è ovvio se io ho quattro clienti e ad uno l'ho accontentato oggi con un su mariner e so che gli altri tre sono desiderosi ancora di avere su mariner sono clienti che conosco bene io cercherò di darli a loro prima il su mariner poi ci sarà la seconda lista se vogliamo mettere di quelle 450.000 persone che sono passate in boutique totali sconosciuti hanno detto voglio un su mariner ragazzi non vi eludete perché la probabilità non gioca a favore vostro non verrete chiamati cioè questa è la realtà dei fatti perché quando vi chiameranno vi chiameranno quando hanno soddisfatto i loro clienti e se domani marco che è un altro cliente affezionato che magari conoscono bene soprattutto perché vendono jugger la cut e dice ragazzi mi sto per esposare vorrei un su mariner tenetelo per sicuro che quel su mariner che arriva prima lui che a voi che stavate nella lista da quattro anni e così che funziona perché la gestione è gestita da loro poi ci sono i rivenditori e questi sono rivenditori seri per cui stanno cercando da una parte accontentare i loro clienti che conoscono dall'altra parte di non far che questi orologi entrino in questo circolo di mercato nero orologi che come ben sapete perché se voi tenete sotto occhio crono 24 e spesso spuntano da un giorno all'altro orologi rolex nuovi per cui con garanzia siglata lo stesso messi allora ragazzi che cosa stiamo parlando stiamo parlando di un circuito di rivenditori che di fatto fanno esattamente quello che rolex ha paura che facciano comprano l'orologio vedono l'opportunità per rivenderselo giorno dopo questa è la realtà perché lo vedono come un guadagno ok allora c'è questo poi come vi dicevo c'è la seconda categoria di rivenditori quelli magari che giocano un po più sporco quelli che addirittura possono anche essere parte di questo circuito e che a quel punto favoriscono la vendita a gente che loro conoscono che la sua volta magari posiziona gli orologi in altre situazioni questo può succedere non so dove però mi immagino che è una situazione che potrebbe capitare in alcune realtà magari non tutti loro oggi magari solo alcuni ma mi è capitato soprattutto questo me lo ricordo abbastanza bene in francia da ritrovare un grandissimo rivenditore autorizzato proprio grosso con un negozio davanti gestito sempre da loro attraversando le strada ed è quello che loro chiamano secondo polso e ritrovarmi in vetrina della stessa boutique del stesso marchio di rivenditore autorizzato che davanti ti diceva non ci sono orologi disponibili perché non ci sono orologi per voi soprattutto di questi modelli che davanti alla loro boutique nel sempre nella loro boutique del secondo polso ti vendono lo stesso orologio con la garanzia del mese prima o dello stesso mese addirittura a quattro volte il prezzo io lo trovo totalmente illogico te rivenditore autorizzato non puoi gestire allo stesso tempo un negozio di secondo polso ed essere te stesso a favorire questo mercato grigio perché il mercato grigio dice che che il su mariner costa 20 mila allora te me lo rivendi 20 mila davanti alla tua porta alla porta della boutique questo cane l'ho visto che succeda per questo dico c'è una grande varietà cosa vi posso consigliare a voi che siete magari veri appassionati e che vorrete con tanta voglia come ci ho avuto io avere uno di questi bellissimi orologi perché sono bellissimi magari sopra dimensionati per il prezzo è occhio probabilmente il valore è al di sotto del 20 30 per cento reale di quello che offre da un punto di vista meccanico materiali ed altro anche di più però è quello un valore dato dal mercato ed è un orologio di tutto il rispetto perché un'icona dell'orologeria e se voi volete averne uno vi consiglio di non espregare le forze in diversi negozi se siete appassionati di creare un rapporto con vostra orologeria di fiducia più vicina e che sia un rivenditore autorizzato e creare un rapporto che vi permetta con gli anni di farvi conoscere di conoscere la gioieria che non vuol dire occhio comprare orologi è però magari qualche orologio il prossimo che dovete comprare che non sia un rolex compratelo da loro create un rapporto e magari la sorte di favorirà e in magari un anno come me riuscirete a trovare l'orologio del vostro desiderio questo è l'unico consiglio che vi posso dare ovviamente io ho avuto delle realtà diverse se vedete il mio altro video il no date sono stato chiamato a caso di una gioielleria che mi conosceva ma che personalmente io non avevo comprato nulla e ero stato in lista d'attesa per due anni e mezzo e a caso mi hanno chiamato però anche qua mi era successa una situazione molto particolare perché quando mi hanno chiamato ho avuto la sensazione era appena uscito il modello nuovo e ho avuto la sensazione ma rimane una sensazione mia visto che hanno fatto un po' ignorri quando gli ho chiesto se era la referenza nuova che hanno cercato di posizionarmi una delle referenze vecchie che magari avevano ancora lì perché era proprio il mese di transizione fra i su mariner vecchi e il modello referenza nuova e ci hanno provato ovviamente con la lista di scarto io ovviamente io ho risposto dicendo scusate ma se uscita la referenza nuova mi sembra che dovrebbe essere una nuova perché non mi risulta una volta che ne esce la referenza nuova potete vendere la referenza vecchia e a lì mi hanno richiamato e scusandoci che di fatto era la referenza nuova per cui una situazione un po diciamo un po strana mettiamola così però ci ho avuto fortuna e è andata come è andata dall'altra parte sono conosciuto nella gioielleria e si fidano di me per cui alla fine sono riusciti a trovarmi anche per un evento particolare che avevo personale che volevo festeggiare l'orologio che vedete in questa recensione parliamo di recensione ma di fatto non ho recensito nulla fino adesso per cui ho fatto una lunga chiacchierata con voi e spero che non vi siete annoiati fino adesso però ritengo che c'è poco da recensire da un punto di vista tecnico cioè ragazzi lo conoscete benissimo penso che avete letto mille volte è uno degli orologi più iconici del momento dal mio punto di vista e ha un movimento nuovo anche qua di rolex sicuramente con delle caratteristiche molto particolari perché il calibro 32 35 è un calibro che funziona a standard cost rolex per cui veramente va a meno ma nemmeno c'è un scarto che non arriva nemmeno al secondo al giorno io non riesco a trovarlo ha tutte le caratteristiche antimagnetiche oltre che la riserva di carica 70 ore pecca che avevo già notato nell'altro su mariner è che il rotore avendo le microsfere si sente leggermente di più il rumore di uno dei vecchi rolex però è una cosa che veramente non riuscirete a distinguere l'oyster steel che viene utilizzato in questi orologi comunque ottima qualità si tende a graffiare leggermente di più di un acciaio normale ma questo ci sta la lunetta verde che è un colore veramente particolare non mi sembra aver visto in altri questo punto di verde in altri orologi ne ho diversi magari ne faremo un video video recensione su diversi 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 con ghiera verde così da mettere a confronto vi metto qui accanto questo zodiac super sea wolf pro diver sempre sono più o meno delle stesse misure questo un 42 però come potete vedere ci sta ovviamente questo molti di voi non lo sapete ma zodiac è un marchio che è una storia paragonabile a rolex da un punto di vista di produzione orologi divers e e sono stati lanciati praticamente nello stesso anno nel 53 ed è stato il primo diver per il popolo diciamo perché a venta di massa anche nei giornali pubblicità diverse uno dei primi diver super sea wolf questa è la versione nuova il pro diver che ha quasi le stesse caratteristiche diciamo di immersione perché un iso diver di quella del rolex sempre 300 metri però giusto per farvi un confronto bello avere i marchi anche vanno a differenziare di più sulla colorazione a volte a confronto di orologi più classici come quello del rolex che in questo caso se spisa rito leggermente con una ghiera che riprende sempre però il colore classico di rolex il verde rolex bene ragazzi spero che vi sia piaciuto il video facciamo una prova il polso velocemente ovviamente mio polso sempre 18 centimetri e come vedete anche qui la casa nuova a me piace tantissimo rispetto a quella vecchia calza perfettamente in un polso come il mio probabilmente casa un po più grande però questo dipende molto dai gusti in un polso più piccolo un polso di 18 cm un bellissimo orologio da indossare rimane classico ed elegante allo stesso tempo moderno sportivo bene ci vediamo in un prossimo video recensione un caro saluto a tutti